Riduzione della taria Battipaglia per le famiglie meno abbienti. La giunta comunale di Battipaglia guidata dalla sindaca Cecilia Francese con la delibera numero 206 del 14 settembre 2022 ha avvarato un provvedimento di riduzione della taria e la tassa sui rifiuti solidi urbani. L'esecutivo è impegnato grazie alla disponibilità dell'avanzo di amministrazione in 300.000 euro per la copertura dei minori introiti derivanti dal provvedimento. Le famiglie che hanno un ISEE inferiore a euro 6.702,54 otterranno l'esenzione totale del tributo. Una riduzione del 50% della taria è prevista invece per le famiglie che hanno un ISEE tra gli euro 6.702,55 e 8.000 euro. Nessun componente del nucleo familiare deve essere proprietario di immobili escluso o l'immobile di residenza. Naturalmente sarà prontato uno bando a cui i cittadini battipagliesi dovranno rispondere per poter accedere alle egevolazioni previste dalla giunta comunale. Si tratta di un provvedimento che abbiamo ritenuto doveroso nei confronti delle famiglie meno abbienti e che hanno risentito in maniera maggiore della crisi post-covid e dell'aumento generalizzato dei prezzi, in particolare di luce e gas, afferma la sindaca cecilia francese. Come amministrazione siamo sempre attenti alle fasce più deboli della società. Una buona notizia ovviamente per i contribuenti battipagliesi, specie in questo periodo, dove vi è una grande stabilità e non tutti riescono a far fronte al pagamento delle bollette e delle scadenze. Una mano concreta verso tante famiglie in difficoltà. Grazie a tutti.